L'avete saputo tutti, mi è nata mia figlia, quindi lo dedico a lei e alla mia ragazza che mi supporta sempre, che non mi fa mollare mai. Supporto e sopporto, tutte e due insieme. Sì, riscatto, ho avuto problemi fisici l'anno scorso, quindi quest'anno voglio far vedere quello che posso dimostrare per il Bari e per la società che ha creduto in me. Il mister particolare a me mi urla sempre, quindi sulla fascia sua, solo Dursi si sente, però lo fa per me perché sa che posso dare di più e devo dare di più. Siamo tutti forti, il bello di stare qui a Bari è che c'è molta competenza, poi ci troviamo bene, siamo un gruppo molto affiatato, quindi chi gioca gioca riesce ad esprimersi nei migliori dei modi. Sì, vabbè, ma noi dobbiamo guardare nel nostro orticello e dobbiamo fare più punti possibili, all'altra squadra non le dobbiamo pensare. Questi dieci giorni sarà un inferno a Bari che il mister ce l'ha stato dicendo, vi faccio recuperare tutti i giorni dell'allenamento, però noi dobbiamo continuare così. Non c'è un'altra strada, dobbiamo vincere tutte le partite. Siamo contenti della prestazione, ma noi dobbiamo vincere se c'è tutta la famiglia e anche se non c'è, dobbiamo sempre vincere.